Novità e cambiamenti all'interno della diocesi di Fanno Fossombrone Caglie e Pergola. Questa mattina il Vescovo Andrea Andreozzi ha incontrato la stampa per comunicare i nuovi ingressi, nuove nomine, ma anche dei ritorni all'interno del territorio diocesano. Per quanto riguarda i ritorni stiamo parlando di Don Gian Giacomo Ruggeri, parroco attivo all'interno della diocesi fino al 2012 dove ha ricoperto diversi incarichi da parroco di Orciano, dalle relazioni con la stampa, a portavoce dell'allora Vescovo Trasarti e diverse altre attività. Fino a che nel luglio di 12 anni fa fu accusato di effusioni su una ragazzina di 13 anni avvenuta lungo la spiaggia di Torrette a Fanno, poi con il successivo arresto, processo e condanna ad un anno e 11 mesi di reclusione. Dopo un lungo periodo fuori dalla nostra regione, prima a Perugia e poi a Pordenone, ricoprendo sempre incarichi di chiesa, la notizia è di alcune settimane fa quando Don Gian Giacomo Ruggeri è tornato nuovamente nel nostro territorio dove ha avuto un incontro con il Vescovo Andrea Andreozzi e poi con altri parroci. L'ho trovato estremamente disponibile, estremamente semplice nella possibilità di guardare a questa nuova fase della sua vita con coraggio e anche con molta umiltà e con molta prudenza che sono necessarie in questa fase. Inizia una nuova pagina e quindi da questo punto di vista sarà aiutato, sarà accompagnato e speriamo che possa essere una bella pagina da scrivere nel grande libro della vita. Ma la conferenza stampa è stata l'occasione per elencare anche diversi ruoli all'interno del tessuto diocesano a partire dal mese di settembre. Don Marco Presciutti, amministratore parrocchiale di Pianello di Cagli, sarà il nuovo parroco di Pergola, Frontone e Serra Sant'Abbondio, al posto di Don Filippo Fradelloni, affiancato dal giovane Marco Rulli, nominato anche nuovo direttore del Centro Missionario Diocesano. A loro due si aggiungerà appunto Don Giacomo Ruggeri, ma come collaboratore nell'ambito parrocchiale. Cambio di parroco anche a Mondavio, Don Michele Giardini svolgerà il suo servizio a tempo pieno quale direttore della Caritas Diocesana, lasciando il testimone a Don Marco Moschini, che subentrerà dopo il periodo estivo. Don Gabriele Micci rimarrà parroco di Montefelcino, ma sarà nominato anche direttore del Centro per l'Ecumenismo. Nel frattempo, Andreozzi ha nominato il nuovo vicario generale e i quattro nuovi vicari foranei. Annunciato il vicario generale della nostra diocesi è Don Filippo Fradelloni, finora parroco nelle comunità di Pergola, Frontone e Serra Sant'Abbondio. Poi i quattro nuovi vicari delle zone, quello di Caglie Pergola è l'attuale parroco di Apecchio, Don Sauro Profiri. Per Fossombrone è l'attuale parroco di Montefelcino, Don Gabriele Micci. Per la zona di Fano il vicario è Don Federico Tocchini, attualmente parroco a Rosciano e a Centinarola. Per la vicaria del Metauro il nuovo vicario sarà Don Matteo Pucci, attualmente parroco a Calcinelli. Inoltre il vescovo costituirà il nuovo consiglio presbiterale, che sarà formato da circa 15 preti e religiosi, in rappresentanza del clero diocesano, il nuovo collegio dei consultori, e dovrà essere rinnovato anche il consiglio pastorale diocesano. Infine, a prendere le redini di segretario al posto di Don Luca Santini, sarà l'ex maresciallo dei carabinieri Mauro Amati.